buongiorno a tutti ragazzoli benvenuti in questo nuovo e velocissimo video sono qui per aiutarvi nella sfida di oggi settimana numero 9 di mida che dice trova il lama d'oro di mida tra tre location ragazzuoli vi faccio vedere bene dove ci troviamo praticamente distributori benzina e varie cose noi ci troviamo qui ragazzi ve lo faccio vedere la capanna in questione da andare a visitare questa qui guardate bene la pappa ci troviamo a fianco a questo ponticello giusto per capirci quello il ponticello laggiù c'è il distributore di benzina dove c'è anche l'elicottero tutti i bot basterà semplicemente entrare qua dentro ragazzuoli e il lama dorato sarà appeso al muro qui come vedete da queste immagini in sovraimpressione sarete qui ragazzuoli si troverà proprio qua sopra io spero che il video vi sia stato utile mi raccomando un bel like iscrivetevi al channel io vi aspetto anche in live su twitch per i regali dello shop buona continuazione a tutti mi raccomando trovate le sfide della settimana 9 e non solo in una playlist apposita sul canale ciao ciao ciao